Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Filippo e sono qui dal titolo si può già vedere per lo spacchettamento, per così dire l'unboxing, mio primo unboxing del canale di diamante, lucente e perla splendente. Io ho tantissimi bei ricordi di questa regione di Sinno, che tra l'altro ricordi che ho anche rivissuto recentemente rigiocando diamante, ho cancellato un po' quello che era il mio salvataggio, ma prima di cancellarlo mi sono dato un'occhiata appunto alla mia squadra originale, perché io voglio riportarla, riportare la mia squadra, come avevo anche già detto, in scala 1-1 in diamante lucente. Quindi giocheremo appunto diamante, giocherò a diamante. Il gioco mi è arrivato, siamo al day one del gioco, delle edizioni di Pokémon. Io ho l'edizione duplice, come potete vedere, però io la vedo un po' magrolina. Siccome quando mi è arrivata non ci ho fatto subito caso, sono andato a recuperare un attimo un'altra edizione duplice di Usum, che si vede che è leggermente più il doppio. Perché se noi apriamo quella di Usum, abbiamo la scatola Gold. Tra l'altro Usum è ancora incelofanato, perché l'avevo presa in doppia doppia copia, prendendo questa più appunto Luna, Ultraluna, incelofanato che avevo aperto. Però qua è magrolina, è molto magrolina. E quindi il mio dubbio è, o hanno messo la Gold più una delle due copie, o non saprei. E purtroppo no. Cioè, no. No. E direi assolutamente di no. Non hanno messo la Steelbook Oro. Qua c'è anche un codice, quindi riesco a tirare via. La Steelbook Oro. Perché sono così poracce la Nintendo? Io non lo so. Io non so quale sia il problema di Nintendo. Fa una cosa bene e tre ne fa male. Oppure tre ne fa bene e due ne fa male, la mettiamo così. O di Game Freak in generale, perché, insomma, io te le preordino entrambe, perché le voglio entrambe. Non me ne faccio nulla di pagare quei due euro in più per il cartonato. Quanto meno dammi, come su Usum, che pagavi cinque euro in più, ma avevi la Steelbook in finto metallo. Almeno. E purtroppo non è stato. Però mi hanno dato, pensate un po', due codici per cento Pokeball ciascuno. Io qui dentro ho cento Pokeball e cento Pokeball. Io veramente mi domando se la Nintendo siano seri o meno, perché darmi cento Pokeball mi pare un po' una presa un tantino per il culo. Comunque, diamo un attimo un'occhiata al retro della edizione 2. Tra l'altro, anche Scudo e Spada, tanto bistrattati, tanto odiati, tanto... Eh, ma perché? Insomma, motivi a parte, non ne parlerò qui di questo video. Avevano, quantomeno, il cofanetto giallo, chiamiamolo giallo, in finto oro. Qua non si sono neanche sprecati. Perché? Non lo so. Non ne ho idea. Comunque, diamo un attimo un occhio. Svella il mistero dei Pokemon legendali della regione di Sinnoh. Include, e qua già te lo dice, che include due codici download. Una scheda di gio... Una scheda, cioè neanche il gio... Una scheda. Una scheda di diamante e perla e una scheda di Pokemon diamante. Quello che mi lascia un po' basito è che include due punti e mette tre starter. Cioè, nel senso che... Cioè, da come l'han detta loro, pareva che l'edizione include tre starter. Ma no. Cioè, questo non doveva neanche... Doveva essere include due punti e la didascalia. Perché metti tre starter sotto. Sembra quasi che include tre starter. Che poi, comunque, bellissimi. E qua abbiamo le specie di Pokemon che è possibile trovare. La frequenza con cui appaiono in Pokemon diamante e perla sono diverse, ovviamente. Poi abbiamo tutte le varie didascalie. Abbiamo i giocatori, l'online, il pro controllo richiesto. Download necessario, che andrò subito a scaricare per poi partire a bomba con il let's play. E poi abbiamo, appunto, le due copie di diamante e perla. E qua sono praticamente lo stesso sul retro. Mi pare proprio di si svela il mistero del mitico Pokemon che controlla lo spazio e il tempo. Ne andremo a controllare il tempo, appunto, con Dialga. Le immagini sono tutte identiche, tranne per questa. Che qua abbiamo Empoleon e qua abbiamo Torterra. Poi, ovviamente, cambieranno anche dei Pokemon interni. Ma, insomma, andiamo ad aprire per vedere se c'è qualcos'altro dentro. Io apro per ora solo diamante, perché è quello che giocherò in primis. Poi tanto perla andrà a Mary. Allora, diamo un attimo. No, bellissimo comunque di Alga. Molto, molto bello. Non so perché, Sino, sento tanti che non ne parlano in realtà molto bene. Ecco abbiamo il Deplian di Arceus. Ah, e qua un piccolo spoilerino che ci dice se abbiamo il salvataggio di Let's Go Pikachu Eevee avremo Mew. Se abbiamo Scuse Spade avremo Giraci. Ovviamente, se avete entrambi i salvataggi, avrete entrambi da reclutare. Non ho salvataggio di Let's Go Pikachu perché l'avevo cancellato. Quindi, in teoria, avrò solamente Giraci. Però, comunque, basta rinserire la scheda nella Switch. È buona. E qua un po' di pubblicità al gioco di carte Pokemon. Comunque, dicevo, Sino è una delle regioni che più mi è piaciuta insieme a Kalos. Quindi, diamante, perla, barra, platino. Per me è nella top insieme a X e Y per quanto concerne le regioni, i Pokemon, la generazione. Gurti personali, per carità. Però io attendevo questa riedizione come il Messia. Dispiaciuto tantissimo che non abbiano messo la Steelbook dentro. Però, purtroppo, così hanno fatto. Tra l'altro, avevo visto anche uno sconto, un'offertona, qualche mese fa, su GameStop e ad Amazon, che se le preordinavi entrambi in edizione sciolta, quindi senza il cartonato, pagavi circa 10 euro in meno, quindi 5 in meno l'uno. Io ho detto, no, voglio preordinare questa perché io voglio l'edizione duplice. Convinto che ci fosse la Steelbook. Averlo saputo prima, rinunciavo volentieri al cartonato e a ben 200 Pokeball e avrei risparmiato quei 10-15 euro, che comunque, schifo, non mi fa. E niente, ragazzi, io adesso volo a registrare. Noi ci vediamo con il primo episodio di Pokemon Diamante Lucente e grazie di avermi seguito. Ciao, ragazzi!